Questo è un cocktail a base di arum Quindi è la base del Presidente Si chiama il Comandante Vemuccecco Quanto? C'è una granadina? è un'erroba di raspberry di raspberry per il cortico il classo è mio preferito Questo è un drink adatto per come digestivo dopo il cena. Sendo un pochino dolce.